L'11 ottobre partirà un nuovo format di Rossini TV realizzato in collaborazione con Banca Uidiba. La finanza è per tutti. Come meglio muoversi in un momento di grande difficoltà per quello che riguarda la congiuntura economica. Ne parliamo con Barbara Strapazzini, District Manager di Banca Uidiba, Pesaro Ancona. Beh, partiamo dal titolo. La finanza è per tutti. Io vorrei dire che la finanza deve essere per tutti e può essere per tutti. Se ci pensiamo ogni giorno nelle nostre azioni, nelle nostre scelte quotidiane, facciamo scelte che hanno una valenza anche di tipo economico molto spesso. Noi italiani siamo considerati un popolo di grandi risparmiatori, ma al tempo stesso, se andiamo a vedere i dati di educazione finanziaria del nostro popolo, noi italiani, siamo tra i più indietro nelle graduatorie a livello internazionale. E quindi noi consulenti finanziari di Banca Uidiba, io con i miei colleghi che oggi qui sto rappresentando, abbiamo deciso di dare una risposta alle persone, agli telespettatori di Rossini TV, attraverso questa serie di dieci pillole di educazione finanziaria. Banca Uidiba è una banca nata dieci anni fa ormai, questo il prossimo anno è il nostro compleanno, compiamo i dieci anni. Fa parte del gruppo Monte dei Paschi di Siena ed è una banca estremamente innovativa che unisce due anime. L'anima dell'innovazione digitale in risposta a tempi che cambiano e a bisogni che cambiano e al tempo stesso l'anima della relazione tra il cliente e il proprio consulente. Siamo vicini alle persone. Uidiba mi piace sempre dirlo e raccontarlo, che è un nome che sembra un po' astratto, in realtà è un acronimo e significa Wise Dialogue Bank, quindi una banca basata su un saggio dialogo, perché è dal dialogo e dall'ascolto che si genera durante un dialogo che possono nascere risposte adeguate e vicine ai bisogni delle persone. Sono dieci pillole, come dicevamo, si parlerà del risparmio, di come risparmiare, di quello che può essere il danno provocato oggi dall'inflazione sulle nostre tasche, su come investire, parleremo del mutuo, parleremo di previdenza. È chiaro che con una pillola di 5-6 minuti non possiamo pretendere di essere esaustivi, però è fondamentale offrire degli spunti di riflessione alle persone e iniziare ad aiutarle ad orientarsi. Poi c'è sempre appunto il consulente e l'interlocutore di riferimento in ambito bancario e finanziario che deve supportare il cliente e le persone a trovare le risposte più adeguate e vicine ai loro bisogni e ai loro obiettivi. Noi siamo a Pesaro, in Piazza del Popolo e ad Ancona, in via San Martino, abbiamo questi uffici, siamo vicini alle persone e ogni giorno facciamo questo, provare ad ascoltare e dare risposte.